con oggi si chiude l'appuntamento del progetto one team di olimpia milano in collaborazione con comunità azimut e con gli educatori di comunità nuova questi ragazzi sono riusciti appunto a mettere in campo quei valori di collaborazione unita alla competizione però una competizione sana che gli ha permesso di fare un bellissimo lavoro divertirsi e far fare un bel lavoro e far divertire anche noi è stato bellissimo ed emozionante condividere questa esperienza con una persona come nando gentile che ha fatto la storia della pallacanestro europea e nello specifico della pallacanestro limpia milano nando si è rivelato oltre che un grande professionista una bellissima persona capace di mettere in gioco e di mettersi in gioco all'interno di questi valori con questi ragazzi facendoli sentire a proprio agio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti